Buongiorno a tutti, oggi parliamo di pirati e quando pensiamo alla guerra alla pirateria la nostra mente corre a famose pellicole cinematografiche o romanzi come quelli di Emilio Salgari, quasi tutti ambientati nella zona dei Caraibi. Ora, questo è vero, ma in realtà un importante capitolo della guerra ai pirati fu combattuto nel Mediterraneo contro i pirati barbareschi che erano musulmani e che infestavano le coste di Algeria, Tunisia e Libia. Questa guerra fu plurisecolare e l'ultima pagina di questa guerra riguarda l'intervento armato degli Stati Uniti d'America a inizio Ottocento. Ma ci fu anche un importante paragrafo legato all'intervento del Regno di Sardegna. E allora oggi esploreremo queste guerre barbaresche dell'Ottocento. Lo faremo anche con l'aiuto di un esperto, Massimo Alfano, che interverrà per raccontarci la storia dell'intervento armato del Regno di Sardegna. E allora, dopo la sigla, partiremo su una nave e leveremo l'ancora sperando di non incontrare le navi dei pirati. Sigla! Quando pensiamo alle guerre degli Stati Uniti d'America contro il mondo arabo, beh, la nostra mente corre ad avvenimenti di cronaca ai noi recenti, dalla guerra del Golfo alla guerra in Afghanistan e quindi nuovamente alla guerra in Iraq contro Saddam Hussein, poi alla guerra nel 2011 in Libia contro Gheddafi, all'attacco alla Siria di Bashar al-Assad, la guerra in Yemen e purtroppo chi più ne ha più ne metta, perché l'intervento degli americani con gli alleati occidentali ha destabilizzato gran parte dei paesi del mondo arabo, creando problemi a non finire e penso che sia superfluo parlarne in questa sede. Tuttavia noi abbiamo una memoria a breve corso perché ricordiamo gli avvenimenti più recenti, ma dovremmo far risalire questa storia molto più indietro. E incominciare dall'inizio dell'Ottocento, quando gli americani ebbero, pensate un po', il loro primo intervento armato in un paese straniero proprio contro una nazione musulmana, in questo caso la reggenza di Tripoli. Ma andiamo con ordine. E iniziamo la nostra narrazione un po' prima dell'Ottocento, nel 1784, quando per la prima volta gli Stati Uniti d'America stipularono un accordo con le nazioni del Nord Africa per evitare che le navi commerciali degli Stati Uniti fossero aggredite dai pirati barbareschi. Chi erano questi pirati? Beh, si tratta di una pirateria molto antica che infestava le acque del Nord Africa e che ha una lunga storia di conflitti con il mondo occidentale, anche perché i pirati nel Nord Africa erano musulmani e avevano come abitudine, come consuetudine, quella di non soltanto taglieggiare le navi commerciali che solcavano le loro acque, ma anche quella proprio di depredare le coste dei paesi mediterranei cristiani, nonché avevano l'usanza di rapire delle persone, spesso gli equipaggi delle navi, ma non solo, anche saccheggiare i paesi e quindi di rapire magari donne o ragazzi per farne degli schiavi da rivendere spesso alla sublime porta, cioè all'impero ottomano. Infatti sappiamo che l'impero ottomano aveva un ricco commercio degli schiavi, ne faceva una parte centrale della propria esistenza, della propria essenza. Ecco, dunque, la questione dei pirati barbareschi era seria, molto sentita specie dai paesi più vicini alla costa berbera. La Spagna, tra 4 e 500, specie a inizio 500, condusse delle lunghe guerre nel Nord Africa per cercare di impossessarsi delle roccaforti principali e controllare il territorio. La cosa non riuscì. Riuscirono gli spagnoli a tenere per qualche decennio alcune città nel Nord Africa, in particolar modo Tunisi, però nel 1578 gli ottomani riconquistarono Tunisi e si può dire che in questo modo finì il periodo in cui la Spagna cercò di estendere la propria influenza, la propria egemonia anche nel Nord Africa. Siamo grossomodo negli anni di Lepanto, poco dopo gli anni di Lepanto. Quindi il risultato fu che i pirati nel Nord Africa continuarono a fare il bello e cattivo tempo ancora per tutto il 600 e il 700. All'inizio del 800 le cose erano un po' mutate perché ormai l'Occidente aveva delle vere e proprie marine in grado di avere la meglio facilmente sui pirati che si muovevano su barchini con operazioni spesso disarticolate, iniziative private, erano sì un rischio per il commercio ma molto meno per la sicurezza e l'incolumità degli occidentali. Anche se non sempre, ecco si può dire perché c'erano ancora dei rapimenti, tra l'altro uno celebre e poi quello che ha dato origine, pensate un po', all'opera buffa di Giochino Rossini, l'italiana in Algeri, dove una donna di Milano effettivamente fu rapita dai pirati e la storia di Rossini insomma romanza un po' l'intera vicenda. In tutta questa vicenda gli Stati Uniti d'America si inseriscono per ultimi, oltretutto loro hanno interessi sull'altra parte dell'Oceano Atlantico, però i navigli americani solcavano anche il Mediterraneo, avevano bisogno di essere tutelati. Per cui nel 1784 gli americani decisero di pagare le reggenze di Tripoli, di Tunisi, di Algeri, che erano i tre stati barbareschi che formalmente dipendevano dall'impero ottomano ma di fatto erano autonomi affinché le navi americane potessero solcare quelle acque senza problemi. Certo si trattava di pagare anche dei veri e propri patrimoni alle nazioni africane, in particolar modo il Bay di Tripoli chiese addirittura un milione di dollari per evitare l'assalto alle navi americane. Si trattava di un vero e proprio ricatto. Inizialmente gli Stati Uniti decisero di sottostare a questo ricatto perché non avevano una flotta che fosse sufficientemente grande e armata e equipaggiata per poter contrastare i pirati, ma in un secondo momento l'intera questione finì all'attenzione del Congresso e quindi si riuscì a intervenire in armi. Questo perché già il pagamento agli stati barbareschi non era andato giù a molti deputati, tra questi c'era Thomas Jefferson che poi divenne nel 1801 presidente degli Stati Uniti d'America e a quel punto fu proprio Jefferson a decidere l'intervento contro i pirati barbareschi. Come? Beh, inizialmente fece sapere a Tripoli, alla regenza di Tripoli, la sua decisione di ridefinire l'accordo. In tutta risposta il Bay di Tripoli disse che non solo l'accordo non intendeva ridefinirlo, ma anzi rilanciava chiedendo più soldi addirittura di quanti gli Stati Uniti già versavano al Bay di Tripoli. Il risultato fu la guerra tra gli Stati Uniti e la reggenza di Tripoli. Jefferson, sono rimaste famose alcune parole di Jefferson che sono le seguenti. Non ero disposto ad accettare l'umiliazione di pagare un tributo a quei pirati senza legge e ho cercato di formare una coalizione delle potenze soggette alle loro depredazioni. A questo punto fu la guerra e Thomas Jefferson inviò la marina americana comandata dall'ammiraglio Richard Deal con il compito di pattugliare le coste del Nord Africa. Ebbene, si trattò di un conflitto tutto sommato piccolo, inserito nel più vasto sconvolgimento geopolitico che già c'era in Europa al seguito della rivoluzione francese e delle guerre napoleoniche. Siamo negli anni tra il 1801 e il 1805. Un conflitto piccolo ma significativo perché, come dicevo prima, fu il primo conflitto nel quale parteciparono gli Stati Uniti fuori dal loro territorio nazionale. Ebbene, resta famoso un episodio che è l'episodio della USS Philadelphia, cioè una fregata americana che si arenò su un fondale basso, fu assaltata dai barchini dei pirati, l'equipaggio fu fatto prigioniero, la nave fu poi trascinata nel porto di Tripoli dove funse da sostanzialmente da sbarramento da batteria per evitare che altre navi americane potessero entrare nel porto di Tripoli. Cosa che poi puntualmente avvenne con una nave un po' più piccola, la Intrepid, che nient'altro era che è una nave barbaresca catturata dagli americani e resa funzionale ai loro scopi, con la quale i Marines riuscirono a entrare nel porto, prendere possesso della Philadelphia, affondandola in modo che non potesse essere utilizzata di nuovo contro di loro e il bei di Tripoli si rese rapidamente conto che la situazione volgeva a suo sfavore. Tant'è che i Marines sbarcarono a Derna, occupando la città. Fu il primo sbarco delle forze navali americane, reso anche celebre perché l'intera vicenda della guerra barbaresca è ancora cantata nel lino dei Marines e alla fine il bei di Tripoli dovette sottostare le richieste americane, decretando quindi la vittoria degli Stati Uniti d'America in questo primo conflitto che passa sotto il nome di Prima Guerra Barbaresca. Perché prima? Perché c'è una seconda, chiaramente. Se la prima guerra fu combattuta contro Tripoli, la seconda fu combattuta contro Algeri. Stessa situazione, stessa situazione di pirateria. Questa volta gli americani cercarono di creare una vera e propria coalizione contro Algeri, nella quale vennero inglobati anche gli alleati inglesi e olandesi. Quindi fu una prima coalizione internazionale contro uno Stato canaglia, se vogliamo usare una terminologia in voga fino a pochi anni fa. Questa guerra fu combattuta tra il 1812 e il 1815. Anche qua non fu una grande guerra nel senso che noi possiamo dare oggi, che abbiamo presente l'intervento americano in grande stile. Fu una spedizione delle forze navali americane per tentare nuovamente di forzare la mano al bei Omar bin Mohammed. Ovviamente la spedizione volse a favore degli americani e dei loro alleati, anche per la loro superiorità tecnica. Furono anche catturate alcune navi della marina algerina, tra cui anche l'ammiraglia, e furono restituite solo dopo il pagamento di un riscatto. Quindi in questo caso la stessa usanza dei riscatti si ritorse contro i pirati barbareschi. Di fatto in questa maniera si concluse la guerra barbaresca, la seconda guerra barbaresca. Ricordavo che è entrata, in un certo senso, nella leggenda per la presenza dell'attacco a Tripoli nella canzone nell'ino dei Marines, ma devo anche citare il fatto che gli ufficiali di marina americani usano una spada berbera ricurva in ricordo proprio di queste spedizioni della prima e seconda guerra contro i barbareschi. Le cose non finirono lì perché nel 1827 fu la volta della Francia che cercò di forzare la mano. Come? Beh, in questo caso fu il dei di Algeri a chiedere alla Francia il pagamento di un vecchio debito contratto nel 1799 durante la campagna napoleonica in Egitto. La Francia fece orecchie da mercante e in tutta risposta, dopo uno screzio con l'ambasciatore, inviò la propria flotta per bloccare il porto di Algeri e nel 1830 avvenne la vera e propria invasione della Francia in Algeria, da cui prese inizio la colonia della Francia in Algeria. Quindi fu il primo sbarco coloniale francese che diede inizio all'impero coloniale di Parigi in tutta l'area dell'Algeria, del Sahel e via dicendo. Quindi risale proprio a questo periodo e il motivo scatenante chiaramente fu nella guerra alla pirateria già condotta negli anni precedenti dagli americani. E gli italiani? E gli italiani in tutto questo ovviamente non avevano una gran voce in capitolo anche perché l'Italia, per dirla alla Metternich, era una espressione geografica, non esisteva ancora. Ma c'era già qualcuno che stava iniziando a capire come funzionavano le cose dall'altra parte dell'Africa, non chiaramente per fare un'impresa coloniale, ma semplicemente per garantire i propri traffici commerciali. In questo caso stiamo parlando del regno di Sardegna, che ebbe una voce in capitolo particolare in questo conflitto con le reggenze barbaresche. Io a questo punto lascerei la parola a Massimo Alfano, che è uno storico della Marina, al quale ci illustrerà proprio l'attacco del regno di Sardegna con tutte le sue conseguenze. È una storia italiana assolutamente poco nota, per cui io sono molto felice di potervela trasmettere. Dopo il 1815, quando, secondo il congresso di Vienna, la Repubblica di Genova venne annessa al regno di Sardegna, le condizioni della Marina Sarda erano veramente critiche. Durante tutto il periodo napoleonico, quando la corte era in esilio sull'isola, i corsari, i pirati barbareschi avevano continuato ad attuare una politica di attacchi costante lungo quella che era la costa sarda, sia per catturare navi e materiali, sia per catturare popolazione. Di conseguenza si cercò all'epoca, con i modestissimi mezzi che c'erano a disposizione, di opporsi a queste forze che partivano dal Nord Africa, ma quella che si mise insieme era una piccola flottiglia di vecchie unità. C'era di tutto, veramente, piccole feluche, sciabecchi, nella migliore delle occasioni, galere, che fu sempre difficile mantenere in funzione, ma in sostanza navi vecchie e del tutto inadeguate al momento e alla funzione che dovevano svolgere. Dopo, con la pace sopraggiunta, quello che fu necessario fare era ricostruire completamente la Marina del Regno di Sardegna. Giorgio Andrea de Genet stabilì una legge navale, stabilì delle regole per cercare di raggiungere quello che era l'obiettivo che ci si era prefissati, ovvero in primo luogo garantire la sicurezza della navigazione, secondariamente stabilire delle zone di interesse per la Marina del Regno di Sardegna e per lo Stato sardo, dove la Marina fosse rappresentata e lo Stato potesse mantenere una propria bandiera, una propria presenza in quella zona. Parliamo del Mediterraneo orientale, del Mediterraneo occidentale, ma anche del Sud Atlantico. Era un programma particolarmente ambizioso. De Genet delineo le linee di sviluppo della Marina che dovevano essere attuate negli anni successivi. La difficoltà costruttiva c'era perché durante il periodo napoleonico i francesi tagliarono una quantità di alberi in Liguria enorme, di conseguenza le possibilità erano ridotte. Si dovette acquistare legno all'estero, legname adatto. Molte navi inizialmente vennero costruite con legno locale non perfettamente adatto allo scopo, ma tutto venne superato e nel giro di circa dieci anni si riuscì a realizzare una forza credibile per quelli che erano gli obiettivi da raggiungere. Le condizioni di un impegno della Marina del Regno di Sardegna con un attacco alle basi della pirateria si verificarono nel settembre del 1825. L'impegno era di pagare una tassa per la presenza del console sardo a Tripoli e quando il console si ammalò e tornò in Piemonte e venne inviato naturalmente un sostituto, il bei di Tripoli richiese un nuovo pagamento perché di fatto era cambiata la persona di rappresentanza. Carlo Felice non fu della medesima opinione, il pagamento non venne fatto ed ecco che nell'agosto del 1825 venne dichiarata guerra dal bei di Tripoli al Regno di Sardegna. Si verificava di conseguenza la necessità di reagire a questa situazione non solo perché c'era una ripresa della pirateria barbaresca, in questo caso della guerra di Corsa che autorizzava qualunque legno tripolino ad attaccare naviglio mercantile del Regno di Sardegna, ma proprio perché era stata effettivamente dichiarata una guerra allo Stato. Di conseguenza si pensò a un'operazione volta a neutralizzare tutte le forze di mare del bei. Venne fatto inviando quella che era la squadra di evoluzione, ovvero il nucleo centrale della Marina del Regno di Sardegna di allora, al comando di Francesco Sivori, del capitano di Vascello Francesco Sivori. Vennero destinate all'operazione due grosse fregate, una corvetta, un brigantino e quattro navi mercantili. L'obiettivo era giungere a Tripoli e intervenire in una maniera innovativa che potremmo definire di commandos, cioè non attuare un attacco al porto bombardando la città, bombardando il porto, come si era fatto in numerose altre occasioni, ma un'operazione più mirata. Allora, le fregate e la corvetta, il brigantino e il resto delle navi si portarono in prossimità, ma non in completa visibilità del porto di Tripoli e all'inizio, in tarda serata, nella tarda serata del 26 settembre 1825, caricarono di marinai dieci lance, dieci lance che erano state attrezzate con una carronata sulla prua. Le lance vennero prese a rimorchio dal brigantino Nereide e portate davanti all'imboccatura del porto di Tripoli. Le fregate e i mercantili rimasero a largo. Il Nereide si posizionò di fronte al porto e venne naturalmente identificato. Ci si attendeva da parte Tripolina un attacco, probabilmente un bombardamento, qualche colpo sparato contro le fortificazioni. Le lance subito non vennero viste, vennero lasciate dal brigantino e a forza di remi queste dieci lance si diressero verso l'imboccatura del porto. In extremis, all'ultimo momento, vennero effettivamente identificate e fatte oggetto di un massiccio fuoco di fucileria, ma l'artiglieria che era posizionata sulle fortificazioni non intervenne. Di conseguenza il passaggio dell'entrata del porto fu abbastanza agevole. Ecco che allora vennero presi di mira e assaltati quei legni che potevano essere utilizzati dai corsari per nuocere alla navigazione mercantile sarda. Si trattava di un brigantino, due golette e numerosi legni minori. Erano forse i più insidiosi, imbarcazioni particolarmente veloci, difficili da raggiungere, da catturare, ma che potevano rappresentare una grossa minaccia per il naviglio mercantile. Le lance si diressero su queste navi dove c'erano gli equipaggi ma non erano pronti nella notte a difendersi. Di conseguenza l'operazione si svolse con grande rapidità. Arrivati in prossimità delle navi ormeggiate, le carronate aprirono il fuoco, vennero sparati colpi diamitraglia, messe a fuoco le unità minori e assaltate le tre unità maggiori che erano presenti. Ci furono dei combattimenti a bordo naturalmente, venne dato fuoco a quasi tutto quanto era possibile, ci fu anche uno sbarco di due lance a terra dove si cercò di andare a piccare il fuoco alla dogana e ai depositi di munizioni. In seguito si reimbarcarono molto rapidamente e ritornarono a forza di remi verso il Nereide. L'operazione fu rapida, efficace, perché di fatto tutto quanto era galla nel porto di Tripoli venne distrutto o affondato. Comportò un morto e sei feriti da parte Sabauda è un numero abbastanza difficile da determinare dal punto di vista del nemico. Si parlò di circa 60 morti e un'ottantina di feriti, cifre difficili da confermare o da ritrovare. Il reimbarco fu abbastanza semplice, si ritornò in prossimità al Nereide, vennero prese a rimorchio nuovamente le lance e portate alle fregate che attendevano sulla distanza rispetto al porto. Tutto questo fu indubbiamente un successo, l'obiettivo era stato raggiunto. Il giorno successivo le due fregate, la corvette e il Nereide, si avvicinarono al porto pronte allora ad effettuare un bombardamento qualora il Bay avesse determinato, espresso la sua determinazione a resistere. Questo non avvenne, si decise di tornare a una condizione precedente, a una condizione di pace e soprattutto quelle che erano state un pericolo per la navigazione sarda, ma non solo, vennero completamente neutralizzate. Che cosa ci dice l'attacco effettuato a Tripoli? Ci parla di una marina che stava crescendo, che si stava organizzando per raggiungere quella che era la propria condizione ottimale. Desenet aveva fissato quelle che erano le regole. C'era un budget statale da destinare allo sviluppo della marina. Di conseguenza bisognava vedere che cosa occorresse, che cosa fosse necessario a quella marina per raggiungere i propri obiettivi. Non era così scontato. Inizialmente, per esempio, si costruirono delle grosse fregate. L'idea era di costruire poche grandi navi, ma questo non rispondeva ai bisogni dello stato sardo, perché non c'era un nemico da battere. Gli americani nel 1812 costruirono delle grandi fregate, the original six, che erano superiori sotto ogni aspetto alle navi inglesi, alle fregate inglesi, ma in quel caso c'era un nemico da battere. Era logico parametrarsi sulle navi del nemico e costruirne di più potenti per poter avere sempre una condizione di relativamente facile vittoria nello scontro uno a uno. Ma in quel momento il regno di Sardegna non aveva un nemico specifico. Non c'era un obiettivo contro cui esercitare una superiorità. Era necessario per contro mantenere una presenza su vaste zone di mare. Di conseguenza era necessario costruire un numero maggiore di unità di dimensioni inferiori. Ed ecco che ciò che venne costruito intorno agli anni 1817-1820 venne poi modificato. L'attacco a Tripoli servì effettivamente per mettere in chiaro ciò di cui la marina sarda aveva bisogno. Aveva bisogno di numerose unità flessibili nell'utilizzo, moderne nella concezione. E Desgenais si mosse esattamente in quella direzione. Si giunse quindi cinque anni dopo, intorno al 1830, nella condizione ottimale, ovvero la possibilità di avere una squadra di evoluzione funzionante, efficace, compatta, in grado di intervenire massicciamente là dove fosse necessario. E una grossa serie di unità che potessero essere dislocate nel Mediterraneo orientale, in alcune zone del Mediterraneo occidentale e degli stazionari in Nord Europa e soprattutto nel Sud Atlantico dove l'emigrazione piemontese cominciava a muoversi, anzi era già in movimento da anni, e dove era necessario andare a rappresentare lo Stato e a tutelare gli interessi degli emigranti. Questo venne fatto grazie a quella politica chiara e assolutamente netta messa in azione da Giorgio Andrea Desgenais. E la squadra di evoluzione che venne creata già nel 1825 mise in evidenza la possibilità di raggiungere degli obiettivi in maniera, oggi diremmo, chirurgica. Bene, vi ringrazio per essere stati qui, aver ascoltato questa puntata fino alla fine. Io spero che questo nostro canale di cose ottocentesche sia sempre di vostro interesse e di vostro gradimento, anche a volte con ospiti di eccezione come Massimo che ha prestato la sua voce e la sua conoscenza per questa puntata. Io ringrazio Giorgio Cavallo per l'ospitalità e per il piacere che mi dà sempre parlare di cose di Marina ed essere qui con voi in questa bella serie di occasioni. A voi tutti va il nostro saluto, io sono solito salutare in Piemontese e penso che Massimo possa condividere. Per cui, arvezzetto di Tine, Cerea.